Siamo a Raduno Jeepers a Marino. Trattori e ruspe in azione fuoristrada impegnati. Io abito qua vicino a Frascari. Guarda chi c'è? Gente, gente, gente. Guarda chi c'è? Aspetta che sta contro luce, mettita la luce. Chi sei tu? Sono Mauro Polli. Mi dicono me. Sto a fare un piccolo video al volo. Fra un po' che andiamo in pista. Guarda questa parte. E' bravo. Buca profonda. Ammarino dai Jeepers. Scusa, ma a Raduno Jeepers che ci fa un Lander? E' bravo. E' bravo. E' bravo. E' bravo. Perché scaviamo troppo, Joe. Perché i ponti arano sotto, hai capito? Vedi i ponti come scavano. Allora, Joe. Passa ad attaccare il perro, veniamo qua. Io con un attimo. Se insiste esce. è fermi. ua. Well, e è un. che dice? tiratelo